La guerriglia urbana con tanto di pulmani incendiato avvenuta domenica tra i tifosi di Paganese e Casertana ha riportato il tifo violento alla ribalta nazionale. Il ministro dell'interno Matteo Piantedusi ha fatto sapere che le sanzioni per quanto accaduto a Pagani saranno adeguate alla gravità degli episodi, i carabinieri coordinati dalla procura di Nocera Inferiore. In queste ore stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere e non è da escludere che già nelle prossime ore possano esserci sviluppi. Intanto il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, questa mattina ha incontrato il prefetto di Salerno Francesco Russo annunciando che il comune di Pagani si costituirà parte civile nei processi penali che seguiranno. Condanna totale per i delinquenti e solidarietà al popolo paganese e anche a quello calcistico che stava già all'interno del settore e dei settori a tifare la propria squadra. Resta da risolvere anche la questione legata al risarcimento degli immobili danneggiati dalle fiamme scaturite dall'incendio del bus. Non ho più caldaia, il gas non mi funziona, l'antenna non mi funziona, non mi funziona niente. Non so, nessuno si è fatto sentire, nessuno viene a riparare danni, nessuno mette a sicuro l'abitazione e non lo so come devo fare. Scene che hanno lasciato sgomenta l'intera comunità paganese. Siamo sgomenti e naturalmente stiamo riflettendo su quanto è accaduto. Insomma uno va per distrarsi dopo aver fatto una settimana i lavori, chi lavora, giustamente per distrarsi, poi viene qua e ci sta il rischio che non andrà più a casa. Mi vergogno di essere paganese, è stata una cosa troppo brutta, troppo vergognosa e una vergogna.